Beh, direi che è arrivato l'inverno, fa un freddo becco, però ci stiamo divertendo con l'NBA. In particolare ci stiamo divertendo con Kevin Durant. Il ragazzo ha aspettato 561 giorni prima di tornare in campo. Sapete che si era rotto il tendine d'Achille alle Finals del 2019. È tornato alla grande. Già dalle prime partite direi che abbiamo visto il vero KB. Sta viaggiando ad oltre 28 punti di media a partita. Ora, il ragazzo ci sa fare. Da 3 sfiora il 60% dall'arco. Impressionante. È sempre stato mostruoso, però onestamente rivederlo in queste condizioni dopo quasi due anni di inattività fa onestamente una certa impressione. A questo punto tutti si chiedono, i Brooklyn Nets possono concorrere per l'anello NBA? La risposta è sì, perché hanno Durant, hanno Irving, hanno Steve Nash come head coach e soprattutto mi sembra una squadra molto profonda. Quindi fossi in LeBron James e nei Lakers un po' mi preoccuperei. È chiaro che Adam Silver, commissioner dell'NBA, sogna una finale tra Lakers e Nets, tra James e Durant. Lo sogniamo anche noi, dai. Bisognerà capire però come andrà questa stagione, perché l'inizio dei Nets è stato molto interessante. Però abbiamo giocato veramente troppe, poche partite per avere un quadro generale. Diciamo che KD ha indicato la via, ovvero non è tornato tanto per giocare, è tornato per vincere. LeBron James, che recentemente ha raggiunto quota mille gare NBA con almeno 10 punti di media, beh, direi che anche lui è pronto. Anche perché i Lakers qualcosa hanno cambiato, però ripartono sempre da lui, dal 36enne che gestisce tutto. Quindi ragazzi, aspettiamoci tante belle cose nel 2021, perché l'NBA ci ha fatto capire che lo spettacolo è garantito. Con questo Kevin Durant possiamo divertirci come non mai. Quindi sarà un gran 2021. Poi la neve se ne va, tranquilli che se ne va. Ciao ragazzi.